Virtus più 22, 22 di Kyle Wims. Come lo fermi questo qui stasera? Infermabile. Quest'azione Teodosic è consegnato per Wims che si accentra, si prende poi il tiro da due punti, ma comunque è setta e allora nuovo attacco Virtus, Wims è perso dalla difesa e punisce Kyle Wims, Markovic, poi Wims che riceve la Teodosic. Il numero 34 bianco nero, buon per la Virtus perché comunque Wims va il lunetto. Enelizza entrambi i tiri liberi con i Gamble con la Teodosic per Wims. Wims in questo momento padrone assoluto della partita, ora adesso a gestire il possesso per la Virtus, attacca il ferro Paio, la filo in fondo poi scarico per Wims con il derby di Natale Wims che da tre. Wims spalla a canestro contro Cinciarini, è entrato in campo al posto di Aradoni. Uno ne ha commesso la Virtus, attenzione a Wims che si prende anche la tripla e VP. Lato destro del capo, si butta dentro lo scarico in angolo per Wims che prende, tira e segna anche questa. 5.50 da giocare, Markovic a superare la metà campo. Si fa vedere Wims che riceve, si fa la colla da tre punti! Kyle Wims! Grazie a tutti!